Stavo cercando di ruttare ma mi stava venendo su il fegato e... E guardate che c'è una mappa nuova che ancora non ho fatto perchè ancora non mi è uscita Ah già quella del grattacielo No Sì Sì La vedi è one shot quella Ashley eh Eh ma sono circondatissimo zio Pare che qualcuno si becca la trappola eh Se vanno... Ottimo Ottimo Puttana di figlio Puttana di figlio Cazzo ho lasciato aperta la gabbia del delphi E invece di mettere il grattacielo di cinque da Phantom Pain come si dice? Betta rucca sorrido To Phantom Pain Perchè dè è difficile Molto più facile da dire Z O Z Dipende da cosa Da cosa c'è soffo Mardo Forza 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 Toro Toro Re dei Tori Forza Toro Re dei Tori Tipo non so Vince Un gioco di merda Cioè tipo lì che ride Ma è presente quelle risate smortate a metà che poi ti fanno venire una faccia morta Ecco Morda ma no Sì Ti fa tipo Se lo trovo Ancora che ci segui La confusione si ammida in me Cambiamo zona Dai vai Vabbè vaffanculo Perfetto Cioè se non hai culo tu vacca boia che erano tutti Tutti girati eh Dai Cazzo ma glielo stavano Glielo stavano Spammando porca troia Esploso morto disinstallato Comunque un po' Cioè non lo so Ma un po' rainbow Cioè non so se dire Beh lo devo dire Dillo Senza parola dico Dillo Ma tu Ma è una cosa positiva Lo sai cosa voglio dire Allora dillo Ma te la senti di Di sentirla Cioè lo pensi anche tu Sì Dai È quello che pensa Spero che sia Che mi ha un po' man Mi ha un po' man Quello? Sì Mancato? Ok Dai Mi è un po' mancato Ma no Beh se sto gioco mi fa schifo I bradipi sono lenti ma c'hanno delle unghie veramente lunghe Però non farebbero né al male a una mosca Il drone nemico ha trovato il contenuto Non c'hanno la forza Mi giudichi E se sparo in testa cavera? No Ti giudicherò solo positivamente Ehi Ehi che c'è? Che c'è? Che c'è? Ehi Da lì Da lì Dall'angolo della porta questo qua Eh anche da dietro Fanculo Perchè Perchè tira un'abbronatina C'è dentro? Eh sì E ora sono morto Però Perchè pensavo ci fosse dietro qualcuno Un nemico Ottenete il contenitore Eccolo Hai visto? Eh di fronte a te Forse è andato nel lato C'è a destra Eccolo Quanti serpenti No spara attraverso i muri Ma hai barricato Ah ok Stronzi 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 Mamma mia Che cura Figa veramente Eccolo 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 Com'è che era? Cosa? Quanto ti piace con l'arma? Com'è che era? Dai il cheat Il cheat di cosa? Della Dell'arma di Bandit Come schiaffare un delfino Ah come schiaffare un delfino Eeeh Mi piace molto questa mp7 Tipo Vabbè Credo che nel video questa parte apparirà ora Dove lo risolto più spesso bene C'è sto mp7 Che mi piace proprio Bello carnoso Come cosa? Come? Come lo s... Come schiaffare un delfino Trovate il contenitore di più rischio Ah Ah Ho capito Eh? Tu dici appare ora e poi metti il taglio della vecchia clip Dove ci sono io che dico Ok ok Sica Oppure non metto niente Tanto non abbiamo iscritti Appunto quindi Però le visualizzazioni sono tante Ci sarà pure Una persona che guarda e dice Mh che buoni questi uomini Compriamo il loro Rivolgiti a quella persona Tu stai guardando questi video Continua a guardarci Che sono belli Trasmibra Grazie 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 Basta fare il video giusto Invitami Caso Ok sarebbe il video giusto Oh ma è Quello che chiappa le visual Tipo Abbiamoci confo a vj Che mezza seg Non è uno scherzo epico Finito Oppure Pronto Pronto Lei è il signor Postscript Un iscritto subito dietro Le risparmieremo la vita Se lei farà un video Con noi Sponsorizzandoci Come non mai Su tutti i social Che lei ha e conosce Mi ha capito Signor Inserire nome di youtuber Perfetto È tipo video di Inserire nome di youtuber Ho fatto una partita rainbow six con i falchi Mamma cara che bestie che sono Bestie che sono Si deve essere scritto così Mamma cara che bestie Bestie scritte Eh scusa Fra parentesi scritto Da leggere con la bestie un po' Bestie Hai ragione Perché non sta partendo la partita Due Ok Dobbiamo rincominciare Rincomincio 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 Ora in basso a destra della copertina del gioco Cioè pensa i nostri figli guarderanno Leo di square Ma che ne sai che lui vuole fare il muratore Lascia lo fare Ma dai con il padre che va Va a fare il muratore Ma fatti una vita Dillo a lui che magari vuole fare che ne so L'imbianchino Ma perché Perché con tutto quello che ha fatto il padre Dovrebbe fare l'imbianchino E si va Le notti d'Oriente Immersi nel blu Son calde lo sai Più calde che mai di o- Il blu Il blu Cosa vuol dire Perchè Dormitorio 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 principale Non capisco perché Non sono riusciti Non sono riusciti a giustificare il testo Perchè è così grande Metti dormitorio Slash Bambini Dormitorio principale Così si sta Perchè devi farmelo uscire Metti Io vi so Ecco No, stavo per dirte d'ora io Ah ci trovo Cioè poi il cellulare Sembra proprio una roba da Faccio una foto per postarla su Instagram Hashtag strage in Iraq ma fra l'altro ma tu ti sei mai accorto che è il menu principale di rainbow se schiacci start e ti dai crediti ci sono i titoli di coda ma i titoli di coda del finale di cosa